Avere le mappe offline è un requisito fondamentale per noi viaggiatori, ma non solo il viaggiatore in moto, ma il viaggiatore in bicicletta, chi fa trekking, chi fa escursioni. Avere delle mappe offline, saperle utilizzare è fondamentale. Avere lo strumento che possa leggere senza nessun problema, senza nessuna complicazione, avere lo strumento giusto è fondamentale. Poter consultare una mappa dettagliata del posto che stiamo visitando o del posto che stiamo attraversando è un requisito fondamentale. Poter modificare in tempo reale il nostro percorso, addirittura non solo nel nostro bivacco, nel nostro albergo, ma addirittura durante la navigazione stessa, quindi ci fermiamo un attimo, facciamo una modifica al percorso, può essere un requisito fondamentale. O meglio, io durante gli anni ho viaggiato molto, chi mi segue ha visto un po' di viaggi, c'è qualche viaggio caricato su YouTube, chi viene con Motocicletta Team sa di che viaggi sto parlando. Durante gli anni ho sviluppato una certa conoscenza, una certa esperienza su mappe, strumenti, applicazioni, software da utilizzare al computer. Quando non sapevo c'era l'amico che ne sapeva più di me, oppure c'era YouTube che faceva i tutorial. Ma soprattutto ho viaggiato tanto per imparare bene a utilizzare questi strumenti e quale strumento ho scartato completamente, quale strumento utilizzo ormai da svariati anni per viaggiare in tutta sicurezza. Oggi, in questa parte della rubrica, parleremo proprio di quali strumenti ho utilizzato e quale strumento ho scelto. Sono mie opinioni personali, vi dirò la mia, voi nei commenti ditemi la vostra se avete provato questi strumenti. Niente, questo è il primo video di questa rubrica che si suddividerà in qualche video, dove andremo a scavare proprio nel dettaglio anche come creare questi percorsi. Allora, io in passato ho utilizzato praticamente tutti gli strumenti, scusate non sto guardando perché è partito un condizionatore, vabbè. Qui con me c'è un vecchio TomTom, dimensione leggermente o meglio come uno smartphone, il display in realtà è un po' più basso. Questo potevo utilizzarlo soltanto in orizzontale, quelli più nuovi si possono girare anche in verticale, come meglio ci si trova. Pregi e difetti, sicuramente uno dei pregi è che lo possiamo smontare, mettere in borsa, perché comunque lasciare lì lo strumento, anche se sotto chiave, la tentazione fa l'uomo ladro. Quindi, se stiamo viaggiando all'estero, cerchiamo di avere gli strumenti più preziosi sempre dietro con noi. Un altro pregio poteva essere che non è il classico touchscreen, ora non ricordo come si chiama questo touchscreen, ma è quello a pressione. Quindi, con qualsiasi condizione meteo, guanti o non guanti, questo touchscreen funzionava. I tasti, chiamiamoli tasti, le icone, sono molto grosse, molto grosse perché ha poche funzioni, sostanzialmente. La funzione classica è quella di navigatore, quindi tu imposti da A a B e lui ti porta. Si possono modificare dei parametri, dei parametri in questo caso potevi modificare il parametro motocicletta, percorsi più divertenti e finiva lì. Non c'è la possibilità di caricare GPX ed è un difetto, o meglio, un difetto per chi fa viaggi un po' più particolari, per chi pianifica dei viaggi. Non c'è la possibilità di poter visualizzare effettivamente la mappa. Un altro difetto sono costosi, questi mi ricordo erano strumenti costosi, adesso questo è vecchio. Mi ricordo che erano molto costosi, con la scusa che ti davano mappe, la mappa dell'Europa se non sbaglio, gratuita, faceva lievitare questo prezzo. Non legge le open street map, quindi quelle mappe gratuite che troviamo per biciclette, mountain bike, moto, camper, le open street map, si trova qualsiasi cosa. Quando vai a zoomare, lo zoom non esiste, c'è il tasto più e il tasto meno, vai a fare così, non zoomava nulla questo qui, dovevi cercarti il tasto che era molto grosso, quindi facile, ma non entrava nel dettaglio della mappa. Quindi, mappa molto semplice, lineare, basta, finito il divertimento di questo strumento. Ho avuto anche il TomTom Rider specifico da moto, uguale, aveva l'aletta, parasole, uguale. Una cosa buona era forse, perlomeno mi trovavo bene, non dava fastidio con la luce, ma strumento che ho eliminato dopo neanche un anno di utilizzo, proprio eliminato. Il Rider l'ho venduto, questo mi è rimasto perché non vale niente, non si può vendere. Lo strumento che invece mi ha fatto innamorare del mondo dei navigatori satellitari è proprio il GPS Map 64ST, è il modello, è proprio questo modello. Questo è il supporto da moto, il supporto RAM. Piccolo e compatto, lo utilizzi in qualsiasi condizione, caldo, freddo, neve, tutto. Non è touchscreen, ha i tasti che all'epoca era un requisito che volevo. Io volevo dei tasti fisici, avevo esigenze di creare mappe off-road, quindi mani con i guanti sporchi di terra, polvere, fango, e quindi volevo dei tasti fisici da poter utilizzare. Volevo uno strumento che non mi lasciasse mai, che non mi abbandonasse mai. Questo strumento ha la batteria di tipo A, le classiche stilo. Queste sono le originali Garmin che sono ricaricabili da qua dentro stesso, ma se qualora si fosse esaurita durante la navigazione, perché non avevo la possibilità magari di collegarlo con il suo cavo alla moto, questi sono i vari connettori, c'è anche il connettore per un'antenna esterna, per chi viaggia per esempio in fuoristrada, con i 4x4. Avevo sempre con me delle batterie di riserva, quindi potevo mettere delle stilo normalissime, questo continuava a funzionare. Versatilità? Sì, c'è abbastanza versatilità, o meglio puoi costruirti i GPX a casa, te li puoi caricare o all'interno della memoria o sulla sua schedina e avevi i tuoi GPX. La comunicazione non era molto intuitiva, è molto macchinoso, ho provato dei Garmin nuovissimi, il sistema più o meno è quello, l'hanno fatto un po' più bellino, un po' più veloce, ma è sempre quello. Per me il Garmin è uno dei migliori strumenti, ma è macchinoso. Durante i viaggi, adventure, spesso lo sapete, come vengono molte persone che si affidano proprio a me, a Motocicletta Team, per viaggiare, e questo strumento mi ha dato spesso dei problemi. Per esempio, dopo averlo testato, aver caricato, aver studiato i percorsi, scendiamo con questo gruppo dal traghetto, accendo il Garmin, spariti i percorsi, non si sa che fine abbiano fatto. Meno male avevo la conoscenza del posto, non ho avuto problemi, ma se fossi stato in un viaggio organizzato, in un posto dove magari non conoscevo a memoria le strade, sarebbe stato un problema serio. Eravamo in Albania, mi ricordo. Più volte si è frizzato, si è bloccato. In navigazione, mentre andavo, boom, bloccato. Il display è piccolo, sei convinto che quello è lo zoom della tua strada dritta? Ma in realtà si è bloccato e quindi mi ha fatto sbagliare un po' di uscite, siamo dovuti tornare indietro, resettare questo. Un disastro. Uno dei motivi perché ho eliminato Garmin. Ripeto, sono sempre pareri miei e esperienze mie. Però è stato proprio lui che mi ha fatto innamorare del mondo GPS, del mondo della navigazione satellitare, della costruzione di percorsi. Ha tantissime funzioni, il 90% sono inutili. Mi è capitato di dover modificare la traccia in tempo reale, in albergo. È praticamente impossibile con questo strumento. È difficilissimo, anche col touchscreen. È difficilissimo perché ho avuto anche quello con il touchscreen. È complicato, complesso. Non si possono perdere ore per visualizzare e modificare tracce durante un viaggio. Secondo me è inconcepibile. Ho utilizzato i mirroring display. Ci sono un po' di recensioni di due modelli sul mio canale, che mi segue da tempo, li avrà già visti, magari vi lascio il link. La funzione principale è che hanno la possibilità di vedere quello che abbiamo sul cellulare, lo vediamo su questi display. Il cuore pulsante è effettivamente il nostro cellulare, non è questo display. Questo display ha la caratteristica di essere waterproof, di essere un po' più grande del telefono e supporto da moto dedicato, la presa sia alla corrente sia alla 12 volt esterna. E questa è la versatilità di questi strumenti. Comunque, quando dobbiamo modificare, aggiornare e visualizzare effettivamente i dettagli delle nostre mappe, dobbiamo utilizzare lo smartphone. Uno dei difetti assoluti, sempre secondo me, di questi strumenti è che assorbono tantissimo la batteria del telefono. Quindi devi avere o una presa sempre attaccata alla moto per il telefono o una powerbank in tasca, nello zaino e diventa macchinoso, fili, batterie. A parere mio è macchinoso, bello, divertente, simpatico per chi utilizza la moto in maniera, passatemi il termine, tradizionale, ma se devi usare la moto per lavoro, proprio la moto come strumento di lavoro, quindi organizzazione di viaggi, avventure, corsi, sapete un po' di cosa mi occupo. Lo strumento deve essere pratico, veloce, intuitivo, versatile. Passo indietro, sul Garmin ci sono i modelli dove si può trasferire la traccia GPS via Wi-Fi da Garmin a Garmin o dall'applicazione Garmin, questo ce l'ha, o dall'applicazione Garmin a qui. Non sono mai riuscito a farlo funzionare, mai, forse una volta. Forse una volta, per il resto non sono mai riuscito a farlo funzionare. Ho scritto mail, ho aggiornato il sistema, forse sono io, ma non sono mai riuscito a farlo funzionare. Ora io viaggio, ora intendo forse da 5-6 anni, viaggio con uno strumento che secondo me è lo strumento più valido, più versatile, più robusto, più intuitivo, più tradizionale, ed è lo strumento che in qualsiasi parte del mondo ormai possiamo trovare, io viaggio con uno smartphone. E molti di voi già so che giustamente diranno, ma tu sei un pazzo, come fai a fare viaggi, adventure, off-road, remoti con lo smartphone. Io con gli strumenti specifici ho avuto problemi, con lo smartphone non ho avuto problemi. Ho pensato di prendere un tablet rugged, ma uno dei vantaggi che io ho scoperto utilizzando questo è la leggerezza. Non vibra, non balla, non va a crepare, ed è successo a me. A me e a molti altri il traversino della moto, perché questi strumenti pesano, più grosso è, pesa. Questo da solo pesa più del TomTom, più del classico navigatore Garmin, in più dobbiamo aggiungere il supporto. Finché viaggiamo su strada e strade bianche, perfetto, nessun problema, ma quando si inizia a fare roccia, e centinaia di chilometri, non per forza in un giorno, ma diluiti nel tempo, e la struttura che sorregge tutto quanto soffre. Io ho smontato il mio traversino e c'era una crepa. C'era una crepa dovuta proprio all'utilizzo di questi strumenti che abbiamo saldato e rinforzato. Questo è leggerissimo. Lo possiamo adattare alla moto. Io utilizzo il Ram Mont, perché lo utilizzo da anni, mi trovo benissimo, ma si può adattare alla moto in qualsiasi modo. Ci sono migliaia di supporti per adattarlo alla moto. Non è il mio smartphone principale. Il mio smartphone principale, quando viaggio in moto, sta con me in tasca. Questo è uno smartphone di recupero. Lo recuperate in un cassetto, un vecchio smartphone, oppure fate come me, andate dal bro di fiducia e gli prendete lo smartphone che non utilizza più. Come vedete, questo non veniva più utilizzato perché semplicemente aveva queste crepe e non gli piaceva. Allora ho detto, lo prendo io. Funziona perfettamente. Lo accendete, lo svuotate completamente, lo formattate, impostazione di fabbrica, avviate, lo riavviate con le impostazioni di fabbrica, non scaricate nulla, vi scaricate soltanto quello che serve. Osmond e Google Maps. Basta. Io non ho nient'altro su questo smartphone. È velocissimo, fluido, intuitivo, facile, leggero. La batteria, visto che è offline e poi nel prossimo video vi dico che applicazioni utilizzo offline, ovviamente, anzi ve lo dico già ora, spoiler, per la prossima puntata, Osmond e Google Maps. Nella prossima puntata parliamo di Google Maps offline. L'applicazione più facile del mondo, la migliore per viaggiare dal punto A al punto B con tutte le deviazioni ed è offline. So che molti non lo sanno perché chiacchierando con ragazzi che avevano fatto corsi, viaggi, mi hanno detto mi sono perso in quella zona perché Google non prende. Ma c'è Google offline. Quindi il prossimo video vediamo cos'è Google offline e come funziona e come si scaricano le mappe totalmente gratuite. Requisito fondamentale. Quindi la versatilità dello smartphone oltre ad avere sempre uno smartphone di riserva, la sappiamo tutti, siamo tutti tutto il giorno col telefono in mano quindi siamo tutti molto capaci di utilizzare questo smartphone. La prossima volta andiamo a vedere le applicazioni che sono forse leggermente più complesse del solito utilizzo dello smartphone, dei soliti social. In realtà non sono più complesse, semplicemente basta sapere le indicazioni giuste. E basta. Io faccio viaggi... Questo è waterproof, requisito ovviamente fondamentale, è uno smartphone waterproof. Non è un rugged, questo è un OnePlus, non è un rugged. Al momento non... non mi è mai servito il rugged perché sta lì arpionato sulla moto. Se il supporto è buono, dalla moto non si sgancerà mai. non me ne frega nulla se le vibrazioni fanno rovinare la fotocamera perché tanto era uno smartphone che già non utilizzavo, no? O meglio, non lo utilizzava Lucio. Ciao Lucio, grazie per il telefono. Non c'è bisogno di uno smartphone nuovo, questo c'ha fra 6-7 anni e fa una bomba veloce, fluido, rapido, GPS GLONASS, BEIDU, Galileo, Galileo, Galilei, vabbè, quello lì. Quindi prende tutti i GPS, tutti i satelliti principali per la navigazione e senza SIM, non c'è qua dentro una SIM, non la utilizzo e secondo me, per me, è il miglior strumento di navigazione che possiamo avere se sappiamo usarlo, se sappiamo come usarlo. Detto questo, mi sono dilungato fin troppo, scrivetevi nei commenti che strumento utilizzate, con i quali vi trovate meglio e in futuro probabilmente ci sarà di nuovo o un tablet, ma non grosso, sempre un tablet piccolo, magari ragged, non lo so, l'importante è che sia leggero, per me è un requisito fondamentale avere uno strumento leggero che attacchi in maniera rapida alla moto, questo è già attaccato alla moto, quindi io faccio così e questo lo metto in tasca, facile, rapido, intuitivo, attacco il Wi-Fi quando ne ho bisogno, quando sono a casa, quando sono in eventuali campeggi, alberghi, ostelli, il Wi-Fi meno male, bar, ristoranti, se ci serve un aggiornamento online, attacchi il Wi-Fi, lo colleghi via Bluetooth, trasferisci le mappe a qualsiasi altro amico o componente di viaggio senza nessun problema, perché tutti abbiamo uno smartphone e mi si rompe, posso utilizzare lo smartphone dell'amico, ho le mie mappe caricate sul drive, non ho problemi di dover aggiornare una mappa, di dover recuperare qualcosa e poi come faccio a trasferirlo su uno strumento di navigazione, diventa complesso, cavi, tesserine, i Wi-Fi compatibili, Bluetooth compatibili e si risolve il problema. Non c'è il Wi-Fi, c'è l'hotspot e non funziona più, c'è la cartina, cartacea, che è uno strumento fondamentale per viaggiare. Io ho imparato a utilizzare le mappe grazie alle cartine cartacee. Ok, detto questo, ci vediamo al prossimo video, se siete arrivati fino a qui, grazie, fatemi sapere nei commenti e le vostre esperienze con gli strumenti, se vi sta piacendo questa rubrica e nel prossimo video vediamo come far funzionare Google Maps Offline. Ciao e Gas Brillante!